Buongiorno a tutti e a tutte, io sono Jacopo Basagni di Rizzolo Education, ringrazio innanzitutto il Museo M9 che ci ha accolto in questo bellissimo luogo denso di significato permettendoci di svolgere questo evento, sono qui con Roberto Balzani che terrà questo incontro, Roberto Balzani è professore universitario all'Università di Bologna di Storia Contemporanea e autore di manuali scolastici per Rizzolo Education. Proprio quest'anno, anzi il prossimo anno a gennaio potrete vedere il suo nuovo manuale che uscirà per noi, però nel frattempo noi vogliamo parlare di storia e di qualcosa che possa essere utile per gli insegnanti e non solo. Il tema di questo incontro sono le fonti, le fonti sono sempre state presenti nei manuali scolastici, in quelli più antichi c'erano i libri di fonti che accompagnavano la narrazione storica, però ora il mondo è cambiato e c'è bisogno di raccontarle e di usarle anche in maniera diversa. Ci sono tanti modi per raccontare le fonti che possono essere una cartina geografica, un francobollo, un souvenir, qualunque cosa che oggi vediamo in un certo modo e che in passato veniva vista in un altro modo. Una corretta e nuova narrazione di questi strumenti possono rappresentare un'esperienza che può aiutare a coinvolgere i nostri studenti che sempre più hanno bisogno di motivazione. Di questo ci parlerà Roberto, a cui do la parola. Grazie, buonasera a tutti. Io faccio effettivamente il professore universitario di storia contemporanea e mi sono sempre dedicato nel corso di tutta la mia vita accademica a insegnare ai ragazzi dei primi anni, oltre che diciamo alle lauree magistrali. E quindi il problema di interessarli, di venire a contatto con delle generazioni completamente diverse, mi ha posto di fronte a quello che è l'esigenza di tutti noi, di tutti coloro che sono in una scuola, che ci stanno da sempre. E cioè il rapporto con la storia da insegnare, non tanto la storia da ricercare sui documenti, ma la storia da insegnare. Perché? Io, vedete, quando sono diventato professore ero convinto che la storia sarebbe stata una disciplina eterna come la matematica. Ci sarebbe stato sempre bisogno della storia, era qualcosa di connaturato anche antropologicamente, potremmo dire biologicamente. L'idea stessa della memoria è qualcosa che identifica la nostra specie e la rende unica rispetto alle altre, dico la memoria culturale e la memoria anche personale. E invece mi sono reso conto col passare del tempo, e oggi, ahimè, è un problema che tocca a tutti noi, che invece questa disciplina sembra essere molto più contesa dal punto di vista dello spazio che ha sia dentro la scuola, sia al di fuori della scuola. Non perché non ci siano racconti di storia, siamo pieni, le televisioni, addirittura dei canali tematici, ma perché il rapporto col passato è intermediato in una maniera completamente diversa da quella, primo, che trasmettono i manuali, e dall'altra parte da quella che è il riversamento dell'esperienza, della ricerca, quindi della dimensione storiografica, dentro l'esperienza quotidiana. E questo mi ha fatto, mi costringe tutti gli anni a ripensare al mio corso, cosa che penso capiti a tutti voi. Per fare ciò, prima di tutto faccio alcune considerazioni introduttive, perché poi voglio arrivare praticamente a degli esempi, perché sono poi quelli che penso servono a tutti. Alcune riflessioni introduttive, prima di tutto per inquadrare questo tentativo di metodo, se così si può dire, empirico, che è in qualche modo maturato da anni di confronto con questi ragazzi che sono sempre cambiati. In primo luogo il fatto che la gerarchia delle fonti con le quali siamo stati educati, io personalmente, diciamo, come tutti coloro che appartengono a una certa generazione, non esiste più. I ragazzi sono abituati a una pluralità di cose che li toccano, questa gerarchia di fonti, diciamo, di importanza principale, che era, se uno prende in vecchi manuali di metodo storico, c'era una gerarchia di atti ufficiali che erano dotati di una maggiore, diciamo, credibilità rispetto ad altri oggetti, altre fonti. Ecco, questo è un argomento che è completamente sfumato, non lo vediamo più neanche di fatto nei manuali. Nello stesso tempo non troviamo più neanche le differenze che una volta esistevano, anche fino a tempo recente, fra la storia politica, la storia sociale, la storia dell'alimentazione, la storia culturale. Diciamo che ormai tutti questi elementi compongono una sorta di puzzle, di panoplia di elementi che possiamo fare nostri nella trasmissione, naturalmente, del concetto che vogliamo elaborare. Quello che secondo me è importante, al quale è importante, il principio al quale è importante tenere fede, è il rispetto della contestualizzazione. Non possiamo decontestualizzare gli oggetti semplicemente trasferendoli in un discorso passato e presente. Questo sarebbe venire meno alla deontologia dello storico, che ha come obiettivo proprio quello di consentire a questi ragazzi di ricostruire contesti. Quando i miei ragazzi mi chiedono, ma perché dobbiamo studiare la storia? Me lo chiedono anche gli iscritti al corso di laurea in storico, che è abbastanza, diciamo, inquietante. E io rispondo loro, perché indipendentemente dal lavoro che farete dopo, e verosimilmente non sarà quello dello storico, se non per una quota infinitesima di voi, avrete comunque, attraverso la storia, dovreste apprendere la capacità di leggere i contesti nei quali vi trovate. Cioè, riuscire a capire quali sono le idee degli attori che avete vicino, e questo nella vita conta moltissimo. Conta nella vita relazionale, conta nella vita personale, conta nella vita professionale. E questo lo può dare la storia più che altre diciline, proprio per la pluralità di suggestioni, suggerimenti, esperienze con la quale vi porta a contatto. Detto ciò, vorrei provare ad applicare questo metodo, che è quindi non decontestualizzare il rapporto passate presente, nello stesso tempo però creare dei ponti esperienziali, quindi di contesti diversi, che possono essere associati dai ragazzi. Parlo di associazione perché è chiaro che il nostro modo di ragionare, quello delle generazioni, diciamo un pochettino più agé, è un modo, diciamo, gerarchico di apprendimento, mentre quello dei giovani è tendenzialmente associativo, quindi dove l'elemento del pop-up, del tag, è, diciamo, la costante e la normalità del modo attraverso il quale si apprende, si seleziona, si decide. E quindi non possiamo non tener conto di queste forme nuove di conoscenza, nello stesso tempo però non possiamo venire meno a quella che è la proprietà della disciplina. Allora, proviamo a partire, perché così forse parlando di casi concreti è più facile, e volevo partire da un modo attraverso il quale io cerco di spiegare, per esempio, la seconda rivoluzione industriale, cioè il periodo 1870-1914 convenzionalmente, cioè l'allargamento, l'esperienza della rivoluzione industriale dall'originare Inghilterra, come sappiamo, a una serie di paesi occidentali più il Giappone. Allora, lo strumento che normalmente utilizzo, perché su questo tra l'altro c'è stata una ricerca storiografica piuttosto avanzata, è quello dell'esposizione universale. L'esposizione universale è la competizione pacifica fra le nazioni, è una specie di gara fra le nazioni. La prima parte di questa gara si compone di un confronto fra Francia e Inghilterra, che dura dal 1851 al 1867, nel senso che una inventa l'esposizione universale, l'altra risponde come una specie di ping pong. Dopo il 1870, quando si amplia la platea delle nazioni che vogliono competere su una scala industriale e su una sorta di gara pacifica, allora le esposizioni universali toccano l'Austria nel 1873, toccano Berlino, toccano anche l'Italia nel 1881 e l'84, non sono ancora universali, ma sono comunque di livello internazionale, toccano addirittura l'America a partire dal 1876, con la prima grande esposizione in occasione del centenario dell'indipendenza che si tiene a Filadelfia. Quindi sostanzialmente è l'elemento della competizione pacifica. Naturalmente si possono utilizzare tante categorie per analizzare, è uno strumento contestuale questo, la creazione dell'esposizione universale, attraverso i quali si può parlare di tantissime cose, si può parlare dei prodotti, si può parlare delle città, si può parlare dei simboli delle città, la Tour Eiffel come sappiamo è il prodotto dell'esposizione universale, si può parlare di ciò che viene messo in mostra, quindi dell'aspetto tecnologico, ma anche dell'aspetto culturale, tradizionale, etnografico, che accompagna sempre queste esposizioni. Vorrei però far riflettere su un possibile approfondimento, che è quello della successiva diapositiva, e cioè della creazione dei capannoni dove vengono messi questi oggetti. Ecco, se li vediamo in comparazione, sono praticamente tutti uguali, è una modalità di esposizione similare, vengono identificati dei luoghi dove si vengono a creare queste esposizioni, e quello che sorge da questa esperienza è l'idea che il modello dell'esposizione universale sia un modello replicabile ovunque, a tal punto che oggi un antropologo del calibro di Marco Gé lo potrebbe definire un non luogo, cioè un luogo nel quale coloro che vici si recano cercano l'esperienza replicabile, cercano la ripetitività, non cercano l'originalità. Se io vado a Firenze o vado a Venezia cerco l'originalità, se io vado in un centro commerciale cerco la ripetitività, cioè a me interessa quello che devo consumare. Le esposizioni universali sono il primo forma di questa costruzione di non luoghi, cioè di spazi nei quali si va sostanzialmente per vedere cose che ci si aspetta di trovare, non cose straordinarie, ma cose particolari, comparate, ma che rientrano all'interno di un certo campo di attesa. Questo elemento che è la creazione di luoghi apposita per questo consumo, potremmo dire che non è solo di oggetti ma anche di visioni, è oggi una delle categorie attraverso le quali si costruiscono gli spazi del consumo nel nostro paese. Se vediamo nel nostro mondo, scusate, se l'isomorfismo, cioè il fatto che ci si riconosce in luoghi uguali, è quello che rappresenta una delle forme di fruizione dello spazio, non soltanto dello spazio fisico ma anche dello spazio di vita, per una quantità di enormi esperienze che vanno dagli aeroporti, dalle stazioni ferroviarie, dai centri commerciali e così via. Questo è un, diciamo, cerco di essere molto rapido, è un modo per dire appunto che non è che dica che le esposizioni universali sono l'anticamera delle cattedrali del consumo, dico semplicemente che la standardizzazione dell'esperienza, di una particolare esperienza, è una dinamica del mondo contemporaneo che poi troviamo all'interno di altri contesti replicata e oggi, possiamo dire, rappresenta la normalità delle esperienze di vita. Praticamente una parte degli spazi che frequentiamo sono spazi che sono non luoghi oggi. Per tutti noi facciamo esperienza abituale di non luoghi e eccezionalmente di luoghi, a meno che non stiamo in città storiche e viviamo come succede fortunatamente alla maggioranza degli italiani. Ma diciamo che la scelta di visitare non luoghi è superiore anche per necessità di quella di visitare luoghi, cioè di spazi identificati specificamente. Adesso volevo presentarvi un altro tipo di fonte che anche questa, diciamo, è una fonte desueta, non particolare, cioè la fonte dei francobogli. La fonte della filatelia è una fonte storicamente utilizzabile in un ambito molto preciso di tempo, cioè dal momento in cui i francobogli raccontano delle storie, cosa che in Italia avviene dal 1910 in poi perché prima c'era solo l'avvolto del re sui francobogli. Poi dal 1910 in Italia si cominciano a raccontare anche delle storie, Garibaldi, il cinquantesimo unità d'Italia, eccetera, eccetera. E si arriva grosso modo con delle specifiche di questo tipo fino agli anni 50-60, dopodiché i francobogli diventano una, diciamo, forma di produzione indiscriminata di qualunque oggetto per cui chiunque abbia un santo in paradiso alle poste si fa fare il francobogli, quindi perde di qualunque significato culturale, diciamo così. Ma fino ai primi anni 60 l'idea di trasmettere dei contenuti attraverso i francobogli è ancora presente. Chi ne fa un uso, diciamo, strategico, ideologico è sicuramente il fascismo. Il fascismo è quello che inventa la comunicazione attraverso anche l'elemento filatelico. E qui trovate questi due esempi che fanno parte di una serie molto buffa in cui Mussolini fa una storia d'Italia, lui ferma con slogan tipo appunto il più grande Colombo, il più grande navigatore di tutti i tempi. Poi ci mette una M sotto che è come la Z di Zorro, la M di Mussolini, che è, come dire, l'ha detto lui. Ecco, lui costruisce una serie diciamo storico-ideologica in questa maniera. Questa è una forma di trasmissione, di banalizzazione della forma culturale che è molto tipica di questa epoca, non solo in Italia, c'è anche il caso tedesco, c'è anche il caso russo, non siamo solo nel caso italiano. Vediamo quella successiva che è invece la prima serie cosiddetta democratica, cioè dopo il 1945 gli italiani si trovano, il governo italiano si trova a dover emettere dei nuovi francoboli perché non può emettere quelli del fascismo che sono tutti facilittori e cose di questo genere. E allora che cosa tira fuori? Tira fuori in realtà dei simboli molto poveri che sono in realtà quelli della vecchia tradizione socialista o della vecchia tradizione culturale popolare, cattolica, ma non c'è nulla di nuovo, non hanno il tempo di fondarne di nuovi. Quindi c'è la vanga, c'è il martello che spezza le catene, c'è il coltivatore che mette la piantina, sono cose che si ritrovano dalla rivoluzione francese in poi, diciamo, nell'immaginario collettivo. Questo però ci dà l'idea, molto più sofisticata la trasmissione fascista, sicuramente, molto povera questa, che però ci dà l'idea di che cosa, in questo caso, non è un elemento regressivo, è semplicemente che quest'elemento di comunicazione, la Repubblica, i partiti di massa del 45, proprio non ce l'avevano nelle corde, perché non avevano avuto il tempo di pensarci, non era quello il loro primo problema, naturalmente, e soprattutto nel momento in cui dovevano fare un riferimento culturale, lo facevano a un mondo molto antico, ancora molto antico, anche se il prodotto poi, Costituzione, è viceversa, un prodotto molto avanzato, sotto un altro profilo, quindi ragionare su questo, su questi elementi, può essere un'altra chiave, secondo me importante, interessante, proprio per far transitare la riflessione dal periodo del fascismo, sotto il profilo simbolico, dal periodo del fascismo a quello immediatamente successivo. Adesso vediamo quella dopo, e questa invece è la seconda guerra mondiale, la seconda guerra mondiale piace moltissimo ai ragazzi, penso anche ai vostri, normalmente, e naturalmente ci sono, diciamo, è un elemento sempre di grande attrazione. Allora, io, diciamo, per evitare di ripetere lo schema tradizionale, e per andare invece su alcuni elementi, che costituiscono poi un gancio per il dopo, mi focalizzo su un aspetto, fra i tanti naturalmente, che è quello del fattore tempo dentro l'elemento bellico. Allora, l'elemento bellico vive di tempi, naturalmente, tempi contingentati, tempi accelerati, tempi sbagliati, i tempi militari non sono quasi mai rispettati, le battaglie non avvengono mai secondo i tempi predestinati, e normalmente gli esiti sono sempre diversi da quello che ci si propone. Ma il tempo di cui mi occupo io è il tempo tecnologico della produzione standardizzata di oggetti che servono per la guerra. In realtà, diciamo, sappiamo che l'asse nella prima fase della guerra cerca di accelerare il più possibile l'elemento di forzare l'elemento offensivo proprio perché c'è una consapevolezza di avere un tempo limitato davanti. Questo tempo limitato quando gli Stati Uniti entrano in guerra è il tempo della produzione industriale, è il tempo della riproduzione degli oggetti che vengono distrutti durante la fase bellica. Un esempio straordinario è quello della guerra nel Pacifico. La guerra nel Pacifico viene accelerata dal Giappone nel tentativo di distruggere tutte le portaeree americane che non erano state distrutte a Pearl Harbor il 7 dicembre del 1941 e durante la battaglia aeronavale di Midway si cercano le famose portaeree per poterle distruggere e bombardare dal cielo. A Midway ci sono quattro portaeree americane contro, quattro portaeree giapponesi contro tre portaeree americane e le tre portaeree di queste quattro portaeree giapponesi vengono praticamente tutte distrutte durante la battaglia. Ebbene nel 1944 quando ci sarà la battaglia del Golfo di Leite che è la seconda la grande battaglia che dà segna la svolta nella seconda guerra mondiale i giapponesi ne sono riusciti a produrre quattro gli americani ne hanno sedici. quindi che cosa vuol dire questo? Che il tempo il fattore tempo la riproduzione tecnologica del bene in questo caso ha di fatto segnato l'esito di questo scontro. Nel 1942 poteva essere dubbio nel 1944 non lo è più. Un'altra immagine successiva è e ci serve per il discorso che facciamo dopo questa nave di successo questa nave Liberty che è la nave commerciale che poi è stata utilizzata da tantissime altre nazioni pur essendo americana le americane l'hanno venduta in tutto il mondo se ne producono 2700 unità e viene costruita attraverso delle scatole di ferro che vengono assemblate nel centro c'è la parte col motore le altre parti vengono prodotte diciamo in serie e poi dopo montate come il Lego ebbene i tempi di costruzione di queste navi diventano rapidissimi e le navi Liberty vengono incominciano a girare nell'Atlantico per quale motivo in quantità industriale perché c'erano insommergibili i tedeschi che le siluravano e gli americani hanno bisogno di produrre più navi di quanti tedeschi ne riescono a silurare almeno fino all'estate del 1943 e questo che cosa ci porta a dire che c'è il tema prevalente in questo caso è la standardizzazione dei mezzi di trasporto cioè quello che la guerra lascia al mondo dopo è la creazione in serie di contenitori per il trasporto e la nave Liberty ne è l'esempio quindi abbiamo detto riproduzione di navi perché la distruzione della guerra rende dopo il 1943 più il 1942 più facile per gli americani appunto produrre in serie cosa che non riescono a fare i giapponesi e i tedeschi in quella forma e poi addirittura inventare delle navi modello per il trasporto commerciale che diventano poi un modello anche successivamente di unità commerciali nel dopoguerra la cosa che però volevo mettere in mostra successivamente a questo è la standardizzazione degli oggetti contenuti dalle navi allora fino al 45 c'è il contenitore che viene standardizzato dal 1956 in poi c'è con l'invenzione del container il contenuto che viene standardizzato in queste strutture come sapete da 20 o 40 piedi che oggi rappresentano il modo abituale di portare le merci in tutte le parti del globo questi elementi sono effettivamente in una sequenza la sequenza della logistica che nasce nel contesto bellico e che si trasferisce nel contesto post bellico è uno degli elementi della globalizzazione successiva al 45 più facile secondo me da spiegare se si capisce che il modo diciamo di produzione militare in questo caso stibola poi quella che è il grande volano successivo della produzione del trasporto di merci andiamo su un'altra parte ecco questo è invece un altro uso di un'altra fonte questa è la cartina mappa di mercatore che conoscete tutti voi e che è quella che rappresenta la cosiddetta diciamo i due emisferi quello euroasiatico e africano e dall'altra parte c'è quello americano la teoria emisferica e diventa anche una teoria politica all'inizio dell'ottocento quando il presidente Monroe stabilisce afferma che l'America aspetta gli americani e che le potenze coloniali europee non devono più averci nulla a che fare però diventa anche un limite a un certo punto per gli stessi americani soprattutto durante la seconda guerra mondiale perché il presidente Roosevelt che deve portare in guerra gli Stati Uniti deve persuadere il suo pubblico che è molto legato alla teoria emisferica che gli americani non sono al sicuro stando nel loro emisfero perché qualcuno li può venire a disturbare e per fare questo ha bisogno di una nuova rappresentazione geografica e per farlo utilizza una nuova cartina la cartina azimutale con la prospettiva dal polo che viene prodotta in serie durante il periodo della seconda guerra mondiale per dimostrare che cosa che nell'età dell'aria come vi è chiamata allora la Air Age la guerra può avvenire su tutti i continenti perché il passaggio dei bombardieri pesanti da una zona all'altra del globo passando per il polo rende in realtà l'Europa vicinissima agli Stati Uniti e non rende gli Stati Uniti sicuri per cui il problema per gli Stati Uniti d'America è quello di diventare il perno di un'alleanza per sconfiggere il nazismo poi il Giappone eccetera eccetera ecco per fare questo viene prodotta una nuova rappresentazione grafica che nell'idea della presidenza americana dovrebbe soppiantare quella di mercatore che è isolazionista la visione emisferica tende a pensare a far pensare che gli Stati Uniti sono al sicuro stando nel loro emisfero la visione azimutale invece rende tutti quanti diciamo la parte nord del globo come se fosse un'unica diciamo un'unica area nelle quali le partite sono aperte dov'è che è rimasta dunque la cartina è finita nel senso che non la usa più nessuno l'hanno usata nella guerra fredda e poi oggi non è più frequentata siamo tornati non dico a quella di mercatore ma a qualche parente qualche cosa però è rimasto nella raffigurazione a livello internazionale nella memoria collettiva sì certo la bandiera dell'ONU la bandiera dell'ONU che è degli anni 40 rappresenta esattamente la percezione azimutale degli americani è rimasta quella come traccia nella cultura collettiva nessuno la sa più descrivere io se prendiamo magari i nostri ragazzi fanno fatica anche a distinguere i continenti in una cartina messa in questa maniera ma è una traccia storica assolutamente una fonte di un modo di rappresentare il mondo che è tipico di una cultura americana del periodo della seconda guerra mondiale questa è un'altra possibilità di traccia un'altra traccia che volevo utilizzare è quella per esempio del rapporto anche qui fra guerra e cibo e allora questa cartina quel disegno lì che non si legge benissimo proviene da un giornale di trincea questo è l'originale se qualcuno lo vuole vedere dopo che è la tradotta il giornale della terza armata che era quella del duca d'Aosta che era attiva nella zona del Piave diciamo durante la prima guerra mondiale il 1918 e alla fine c'erano queste bellissime questi bellissimi disegni che erano poi compilati dai disegnatori del Corriere dei Piccoli dell'epoca che raccontavano la vita del Fante e così via questa è un prodotto dopo la battaglia del Sostizio quando gli italiani riuscirono a fermare gli austriaci sul Piave durante prima dell'ultima offensiva e c'è questa bellissima cartina che rappresenta tutte le cose buone da mangiare che si trovano nel Veneto una specie di cartina riassuntiva che spiega ai fanti contadini i quali hanno una grandissima fame loro naturalmente perché gli austriaci vogliono venire in Italia e gli austriaci vogliono venire in Italia c'è poi una poesiola attaccata che dice sostanzialmente questo l'austro-ungarico offensiva culinario-mangiativa fu sui monti ed in pianura preparata con gran cura col sussidio tragicomico di un gran piano gastronomico Fon Corrad che è un generale si sente in mano già gli asparagi e Bassano già pregusta di le ciliegie di Marostica si egregie e di schio fra i monti belli gusta già Polento e Uccelli Boruevic che è un altro generale pensa alla bella Castelfranco a Cittadella che Radicchio e Polentina già gli danno la colina non è buono di star senza le ciampelle di Vicenza e via così fino naturalmente arrivare alla fine come dice gli italiani poi in realtà ti hanno dato da mangiare altre cose le bombarde le botte eccetera eccetera questo elemento del cibo cioè della rappresentazione di uno spazio diciamo anche di tipo gastronomico da preservare è naturalmente una delle chiavi della diciamo della propaganda difensiva che scatta dopo Caporetto l'elemento diciamo della difesa anche delle proprie tradizioni anche in questo senso adesso viceversa vediamo un altro contesto completamente diverso nel 1942 questa è la razione K dell'esercito americano cioè quello che gli americani avevano nello zaino per sopravvivere in caso di necessità se non c'era qualcosa da mangiare non lo trovavano la razione K dell'esercito americano era molto più di quello che mangiavano abitualmente gli italiani dal punto di vista delle calorie nel tempo di guerra diciamo che e sappiamo che questa è stata una poderosa comunicazione della forza del modello americano cioè il modello americano prima che dal dopoguerra nasce dall'esperienza di guerra cioè dal fatto che il popolo italiano viene a contatto con una popolazione estremamente ricca così ricca da avere nel proprio zaino nello zaino di quelli che sono i più sfortunati cioè quelli che debbano combattere molte più cose di quello che normalmente mangiano gli italiani soprattutto in quel periodo questo elemento è un elemento comunicativo poderoso vediamo poi come si trasforma nel momento in cui col piano ERP arriva tutto il resto cioè tutta la parte di diciamo di beni alimentari che vengono trasferiti per la ricostruzione dei paesi dopo la seconda guerra mondiale che si connettono però al precedente modello comunicativo quanto tempo ho ancora perché non riesco ad averlo e quest'altra invece quest'altra è un altro tempo un altro argomento che ci porta alla questione delicatissima dell'educazione civica allora l'educazione civica sta diventando un incubo per molti insegnanti soprattutto nelle scuole dell'obbligo ma non solo perché oggi è una materia a sé stante ma naturalmente con un voto a sé stante anche se cooperazione fra più insegnanti e creare i progetti comuni diventa difficilissimo almeno rispetto a un tempo quando la storia e l'educazione civica come sappiamo erano invece materie diciamo affini che si trovavano nello stesso tipo di valutazione qui provo a fare un'operazione di questo tipo che riguarda diciamo l'Italia della Repubblica in questo caso ed è il tema del consumo di suolo questi sono i dati da un lato sulla crescita dell'Italia dal punto di vista economico e sul consumo di suolo del nostro paese e ci sono due immagini che riguardano un film famoso che rappresenta la primo atto di denuncia nell'Italia della Repubblica che è Le mani sulla città di Francesco Rosi che racconta appunto la speculazione di Lizia in una fase aurorale dei primi anni sessanta quest'altra carta quella successiva è invece il consumo di suolo dell'area Veneta che sappiamo uno dei più estesi e dei più voraci della penisola e che rappresenta diciamo quello che è l'effetto poi di queste politiche di non considerazione diciamo delle condizioni di suolo degli anni soprattutto della fine degli anni sessanta e dei primi anni settanta questo elemento è un elemento di riflessione che si può introdurre in una maniera più complessa o meno in una forma più complessa è quella che riguarda per esempio la storia dell'amministrazione rapidamente cioè il fatto che si creano con la fine degli anni sessanta ci sono delle legislazioni che rendono più facile l'edificazione di zone artigianali zone industriali e residenziali e che quindi predispongono il consumo di suolo perché sono i comuni che fanno i piani regolatori e di solito i sindaci e dei comuni fanno fatica a resistere alle pressioni di coloro che hanno anche legittimamente degli interessi a costruire edifici naturalmente e sappiamo che questo è il grande problema decisionale e poi dall'altra parte la difficoltà ovviamente per gli organismi di livello superiore di coordinare questi di coordinare tutte queste forme di micro insediamenti che diciamo i piani regolatori municipali rendono endemici nel corso del periodo 60-70 questo tema del consumo di suolo e quindi della fruizione di conseguenza di quello che è il paesaggio di prossimità io su questo tendo a diciamo sottolineare la differenza profonda che c'è in Italia fra il paesaggio chiamiamolo così culturale che normalmente viene preservato cerca di essere preservato e dall'altra parte il paesaggio di prossimità che è quello che dovrebbe essere fruito abitualmente dai cittadini i cittadini quando finiscono di lavorare normalmente almeno diciamo succede sempre più spesso cercano di fare passeggiate di uscire andare per strada e qual è il paesaggio che incontrano dove vorrebbero andare vorrebbero andare non certamente in cima alle Alpi a fare non possono permetterselo vorrebbero andare vicino a casa propria il consumo di suolo spesso impedisce la fruizione di un paesaggio di prossimità se non quello lungo le aste fluviali ma anche lì con grandi problemi di fruizione l'essenza di piste ciclabili o di spazi nei quali effettuare queste passeggiate che rappresentano il modo con cui gli italiani si riappropriano da circa dieci anni dello spazio diciamo del loro paesaggio un paesaggio che prima era solo culturale adesso diventa uno spazio di vita esistenziale necessario ecco perché questo elemento può costituire credo un ponte fra storia ed educazione civica naturalmente ci sono gli scali diciamo i passaggi delle autostradali tutti questi nodi che sono degli elementi molto importanti perché in realtà perimetrano lo spazio della prossima speculazione cioè sono normalmente esterni alle città ma sono come una specie di mura della città gli spazi di risulta che stanno all'interno di questi perimetri di grande circonvallazione normalmente sono quelli che verosimilmente saranno soggetti a urbanizzazione negli anni futuri prossimi passiamo a un altro argomento che è quello un altro classico argomento che è quello del PIL qui abbiamo una diciamo un'immagine storica che è quello del prodotto interno lordo dell'Italia fra il 48 e l'85 naturalmente che è molto diverso da quello odierno perché i dati sono molto alti se non la caduta del 1975 con la crisi petrolifera sono diciamo fatto in questa maniera è praticamente incomunicabile cioè che cosa sia il prodotto interno lordo che in realtà è l'insieme di tutta la produzione ma anche degli stipendi ma anche degli investimenti degli italiani molto più efficace secondo me se proviamo a metterla come nella cartina successiva che è la comparazione quella che potremmo dire una nuova gara mondiale che questi sono i dati del 1994 e quelli del 2018 fra 1994 c'è un'epoca ancora post sovietica diciamo così dove l'occidente crede di essere il vincitore della grande gara per diciamo la ricchezza mondiale e troviamo i primi paesi che sono tutti sostanzialmente i paesi occidentali vincitori della diciamo della gara per la ricchezza dopo la seconda guerra mondiale se ci spostiamo nel 2018 ed è già cambiata tra il 2018 e il 2020 vediamo che questa gara è alterata dall'inserimento di nuovi soggetti ma soprattutto che quelli che spingono dal basso e cioè l'India e il Brasile hanno ormai valori che stanno superando quelle dei vecchi stati europei a parte forse la Germania che è l'unico che rimane nelle fasce di testa questo elemento molto utile anche questo penso da spiegare per dare l'idea del perché l'Italia ancora oggi sia considerata a livello mondiale un grande paese non è un grande paese per la politica non è un grande paese per l'esercito non è un grande paese per la politica estera non è un grande paese per l'influenza della sua lingua nonostante sia bellissima è perché per ragioni storiche che vanno spiegate per l'appunto si trova in questa pattuglia di testa dei grandi paesi che sono ancora fra i primi dieci per ricchezza del mondo e per questo motivo fa sì che la vita del nostro paese sia in qualche modo legata a questa chiamiamola così questa statistica verosimilmente ancora per poco nel senso che è facile immaginare che andremo rapidamente sotto i primi dieci che non significa stare male naturalmente significa che la ricchezza la distribuzione della ricchezza del mondo è completamente cambiata pensare che nel 1994 i giovani ragionavano ancora come i loro coetanei del 1984 1974 cioè pensavano di essere nell'unica area di sviluppo esistente al mondo e vedere la differenza con l'oggi credo che rappresenti un utile motivo di riflessione che spiega tante cose per esempio la difficoltà di trovare lavori tradizionali la difficoltà di pensarsi in questo paese in una certa in una certo modo perché le condizioni globali nel quale si trova sono ovviamente mutate un'altra possiamo fare un altro esempio questa è una bellissima una bellissima immagine degli anni 50 del 1959 60 che è quello che si può permettere una persona diciamo che fa un lavoro medio quello a cui può aspirare una persona cosa a cosa poteva aspirare nel 52 a tenete presente che questo lo fa nel 60 cioè non è che sia un prodotto nostro è un'immagine dell'epoca allora dice nel 52 se va bene possiamo andare in giro in bicicletta comprarci le sigarette o ogni tanto consumare un pezzo di carne fine nel 1954 già appaiono altri consumi come quello del diciamo della piccola motocicletta della Vespa anche con piccoli consumi culturali che si aggiungono poi vedete nel 59 l'aspirazione agli elettrodomestici a automobili che diventano qualcosa di raggiungibile questo elemento per me è molto interessante perché spiega che diciamo la percezione del progresso tecnologico e della possibilità di approfittarne di avere la possibilità di avere oggetti di consumo in casa è qualcosa che non è che aumenti gradualmente nel nostro paese no la svolta avviene abbastanza rapidamente nella seconda metà degli anni 50 fino alla metà degli anni 50 la condizione generale della vita degli italiani è ancora fortemente marcata dalle condizioni della ricostruzione poi improvvisamente avviene questa accelerazione c'è una bellissima intervista che si trova nel libro della storia d'Italia di Paul Ginsberg ha fatta dei operai della Fiat nella seconda metà degli anni 50 in cui si chiede loro se pensano di poter mai avere nella loro vita la possibilità di comprarla l'automobile e questi rispondono no noi non ce la faremo mai perché il nostro reddito non ce lo consente non ce lo potrà consentire ecco questa immagine ci dà l'idea di che cosa ha significato l'accelerazione della società dei consumi ma anche la crescita economica del paese in quella fase cioè seconda metà degli anni 50 in poi possiamo andare anche a quella successiva naturalmente questo è il film di De Sica il boom che è del 1963 che non a caso è collegato alla prima crisi congiunturale cioè quando c'è la prima cosiddetta congiuntura primo scricchiolio c'è questa specie di ironica riflessione sul boom economico vediamo quella successiva questa vabbè è un'immagine classica che è la percentuale dei beni durevoli posseduti dalle famiglie italiane vediamo che la crescita è soprattutto quella dal 1965 in poi qualcosa appare nel 60 ma per vedere davvero i consumi entrare nelle case degli italiani bisogna aspettare i primissimi anni 60 è allora che si generalizza il modello di consumo che nell'arco di 20 anni diventa epidemico e si assesta dentro la società italiana e questa è diciamo la generazione delle 3M che è quella dei diciamo dei nati negli anni 40 fino anni 40 che è moglie marito mestiere macchina come si diceva all'epoca che era la costruzione della diciamo della famiglia perfetta una volta che si avevano queste tre cose fondamentalmente le cose desiderabili della società erano praticamente raggiunte ecco è interessante sarebbe oggi capire quali sono le altre parole no se dovessimo mettere insieme tre parole quali sarebbero oggi per i nostri ragazzi o per le nostre famiglie penso qualcosa di abbastanza diverso da queste andiamo ancora avanti ecco questa è un'immagine dell'introduzione della scuola media unificata e soprattutto interessante in questo caso questa è un'altra fonte l'occhiello che sta sotto il titolo della stampa che annuncia la scuola media dice è un bisogno dell'Italia del miracolo economico non è soltanto una questione culturale di rendere più preparati i cittadini italiani non è un bisogno se i cittadini non sapranno non avranno le cognizioni di carattere tecnico la padronanza della lingua che serve per capire come si fanno andare le macchine quali sono le forme attraverso le quali si vive nella produzione moderna non sarà possibile essere una potenza industriale questo aspetto secondo me è molto interessante perché elimina la vecchia logica dell'avviamento che era la scuola precedente che era legata semplicemente all'apprendistato cioè a un'esperienza puramente manuale invece nella scuola scuola media poi dovremmo discutere se questo ha funzionato oppure no argomento sul quale si potrebbero aprire diciamo dibattiti con la scuola media l'idea invece è quella di portare gli elementi di conoscenza di base che sono necessari per impadronirsi di una quantità di beni tecnologici di processi soprattutto lavorativi che non sono trasmissibili solo con il mero passaggio vecchio mondo artigiano delle competenze ma ci vuole qualcosa di più ci vogliono le conoscenze una cosa abbastanza diversa da quello che oggi circola nel linguaggio pedagogico abituale quindi qualcosa di molto diverso che però è tipico di questa epoca e questo sarebbe interessante anche qui aprire una riflessione oggi di che cosa avremmo bisogno allora si è riformata la scuola media per creare una generazione pronta per stare dentro il boom industriale oggi noi abbiamo scuole che sono molto da questo punto di vista costruite secondo modelli degli anni 60 quasi tutti e quindi di conseguenza chiederci che cosa sarebbe necessario è un'altra bella domanda io per esempio me lo pongo per l'università e vedo nell'università italiana due cose che convivono senza diciamo toccarsi senza che nessuno lo dica una formazione post secondaria e non universitaria e una formazione realmente universitaria sono due cose completamente diverse che convivono insieme i professori universitari fanno finta di non vederle questo io la mia categoria non la vede e qui crede ancora di essere una sua torre d'aborio non sa che è entrata in un altro mondo ma è la nostra realtà e finché non ce ne renderemo conto probabilmente non riusciremo a essere effettivamente utili allo sviluppo di questo paese questa è una mia personale opinione andiamo dopo ed è il tema e con questo chiudiamo che è il tema della crisi energetica del decennio 70 e la cosiddetta grande inflazione questo è il diagramma della grande inflazione degli anni 70 con percentuali che toccano il 18-20% l'anno e che costituiscono uno dei grandissimi elementi di crisi del nostro paese proprio in quell'epoca allora c'è la lira c'è la svalutazione competitiva della lira e la svalutazione per effetto del prezzo del petrolio che naturalmente costituisce un enorme passaggio di ricchezza reale nelle mani degli italiani perché le svalutazioni di solito producono questo cioè dei cambiamenti di passaggio di ricchezza da un ceto sociale all'altro ma non è di questo che voglio parlare andiamo all'immagine successiva che è un'immagine per la prima volta dell'esigenza che allora si direbbe la riscoperta dell'ambiente la prima riscoperta dell'ambiente del fatto che bisogna non andare in macchina coincide con la famosa austerity degli anni 70 dal 75 al 77 quando per effetto del prezzo del petrolio e della diminuzione delle forniture gli italiani incominciano ad andare in bicicletta incomincia una prima cultura ambientale che passa attraverso l'austerity l'austerity non è creata da una coscienza ambientale ma diventa un veicolo poi della cultura ambientale che si diffonde nel nostro paese qui ho provato a indicare diciamo dove si situa questa crisi economica italiana degli anni 70 una crisi di legittimità del sistema politico che è il periodo 68 69 un lungo ciclo riformatore nonostante l'instabilità politica l'Italia continua a portare a termine le riforme che sono previste dalla Costituzione cioè fino al sistema sanitario nazionale del 1978 passando per il divorzio il nuovo diritto di famiglia nel 1975 c'è una serie incredibile di riforme che non sono altro che la prosecuzione della diciamo dell'onda lunga della diciamo modernizzazione del paese poi c'è la crisi politica del centro-sinistra e il debutto dello stragismo fra il 69 e il 74 sono anni particolarmente caldi e sono forse il momento più critico della vita della Repubblica poi dal 74 al 78 c'è la fase acuta del terrorismo che si lega a quella della crisi economica ed è una fase ancora diversa non posso entrare nel dettaglio di queste quattro diciamo cronologie che si sovrappongono sarebbe interessante farlo mi limito semplicemente a dire che la crisi economica non è una crisi che va da sola in Italia allora va insieme a queste altre che si incardinano in questo processo e rendono quegli anni particolarmente complicati per chi ci vive e anche per chi li deve ricostruire a posteriori l'ultima diapositiva è la questione energetica dopo tanti anni nel 1974 il petrolio rappresentava più del 70% dell'energia consumata in Italia sono fonti agip dell'epoca e quindi di conseguenza evidente che il prezzo del petrolio incide in una maniera smisurata tutto il resto vedete anche il gas naturale metano è un gas ancora utilizzato relativamente poco in Italia nonostante l'Italia avesse fra i primi paesi utilizzato e ricavato anche dalle sue piattaforme al largo dell'Adriatico prime forme di gas metano vedete fra il 2018 il 2008 e il 2018 calano i consumi i consumi sia di petrolio che di gas metano aumentano le rinnovabili ma potete vedere una differenza fondamentale fra la retorica delle rinnovabili che tutti i giorni passa per la televisione e la realtà delle rinnovabili nel nostro paese che come vedete è ancora fortemente limitata nella quantità effettivamente di energia effettivamente prodotta e consumata e su questo anche su questo quindi vedere come l'immagine dell'ambiente sia quella del 75 e quella del 2018 2020 può essere in qualche modo interessante anche per fare interagire due esperienze che rappresentano due generazioni molto vicine contigue direi quella dei genitori e quella dei figli normalmente ecco io non vorrei andare oltre ce ne sono tante altre naturalmente che che mi sono venute in mente che utilizza abitualmente è semplicemente un modo questo per esprimere questa necessità di utilizzare fonti e appigli diversi come vedete cerco di pescare da tante sorgenti diverse e spero prima o poi che i miei studenti come i vostri possono recuperare quella fiducia nella storia che ahimè diciamo sembra un po' appannata nelle giovani generazioni grazie grazie Roberto l'intervento chiarissimo e sono arrivate alcune domande e abbiamo qualche minuto per rispondere e ne leggo qualcuna oggi che gli Stati Uniti non dominano più c'è una nuova visione azimutale possibile sicuramente è possibile non è stata ancora creata cioè non abbiamo ancora cartine che la raccontino probabilmente immaginabile che ci sarà sarà qualcosa di diverso non sappiamo ancora quale però ancora siamo dominati diciamo dalla rappresentazione di mercatore cioè il multipolarismo nel quale viviamo non ha ancora partorito diciamo una rappresentazione diversa rispetto a quella diciamo geografico geopolitica dei nostri dei nostri tempi sostanzialmente quella azimutale sappiamo ha rappresentato un'epoca e poi è tramontata poi ancora e oltre alla filatelia di cui parlava poco fa mi viene da chiederle se anche le monete se oltre alle monete le banconote hanno lo stesso valore di fonte storica perché è un argomento che nella mia classe viene apprezzato anche questo certo le banconote sono un altro un altro bellissimo filone io ci ho fatto vedere prima nella questione della crisi energetica il momento in cui vengono prodotti i mini assegni in Italia c'è stata un'epoca nelle quali la zecca italiana la svalutazione era paurosa la zecca aveva smesso di produrre le 50 lire 100 lire perché non valevano praticamente più niente c'era però bisogno perché la gente andava al mercato di questi di questi piccoli pezzi allora lo Stato concede alle banche di emettere mini assegni dando origine a speculazioni spaventose che durano alcuni anni diciamo e quindi certamente la storia delle banconote basti pensare a quelle della grande svalutazione tedesca che troviamo nei manuali queste sì sono le uniche banconote effettivamente riprodotte nei manuali ci sono quelle da un miliardo di marchi due miliardi di marchi per comprare un pezzo di pane della grande svalutazione del 1923 però certo sarebbe anche quella una strada può essere una strada anche quella di interesse perché no ancora un'altra domanda la crisi della pandemia ha generato nuovi bisogni e nuove icone saranno durature? quindi si chiede anche se la memoria della pandemia sarà duratura se dobbiamo guardare quello che è successo precedentemente nella storia ammesso che dica qualcosa per il futuro direi di no tutte le forme di grande epidemia a parte quelle raccontate dalla letteratura ma quelle vissute sono state rimosse dalle generazioni successive cioè sono rimaste nelle generazioni che l'hanno vissuta per quella immediatamente successiva quella dopo chiude il libro questo è successo per la spagnola è successo per il colera quindi stiamo parlando di grandissime epidemie dell'ottocento per quale motivo? perché non lasciano delle tracce visibili sullo spazio urbano non è un terremoto che distrugge una città distrugge esseri umani colpisce una quantità di esseri umani che però sono quelli che vivono in quel momento e fanno parte di quella generazione chiaro che influirà sulle generazioni successive selezionandole ma la memoria collettiva tende queste cose se non sono clamorosamente incidenti sulla politica e quindi o sulla società a tal punto da doverle memorizzare nella cultura profonda di un paese di una società tende a rimuoverle per cui è verosimile che nonostante l'impatto che ha avuto sulla nostra vita fra non molti anni questa cosa sia come dire tendente a essere meno presente di alcuni altri fenomeni penso la caduta del muro di Berlino che è chiaro che pensiamo ai due fenomeni uno è di portata planetaria ha ucciso milioni di persone l'altro è tutto sommato circoscritto all'Europa a un particolare contesto ma dell'uno ci sarà sempre traccia sui manuali diciamo e può darsi che l'epidemia di covid rimanga nei manuali dei prossimi decenni e poi pian piano poiché ci auguriamo non sia come la peste del 300 tendenzialmente rimarrà diciamo sfocata e pian piano si esaurirà questo almeno ci dicono le epidemie dell'ottocento la memoria delle epidemie del diciannovesimo e del ventesimo secolo allora un'altra domanda è arrivata avendo lei dato dei riferimenti politici all'interno dei quali studiare la crisi degli anni settanta quali riferimenti potremo dare oggi per poter elaborare il confronto fra la stessa crisi vissuto da due generazioni differenti ehm eh sì questa è una domanda oddio non lo so nel senso che ehm diciamo non è la stessa crisi prima di tutto eh la crisi degli anni settanta è una crisi eh dovuta a degli elementi eh endogeni di tipo politico eh di trasformazione della società italiana e dall'altra parte degli elementi economici come il prezzo della materia prima petrolio che era costato due tre dollari al barile fino al 1971 fino alla non convertibilità del fino a che Nixon non dichiara la non convertibilità del dollaro in oro quindi una materia prima praticamente avuta dei prezzi ridicoli rispetto ai prezzi attuali o anche solo a quelli della fine degli anni settanta ma che eh comunque incide su un paese che fa parte ancora della pattuglia dei grandi paesi occidentali che hanno in mano le leve del potere mondiale dal punto di vista economico la nostra crisi è una crisi di un di un paese viceversa che la crisi economica è una crisi legata a un paese che eh ha un diciamo la sensazione di essere un po' ai margini di questo grande processo e non sa come restarci che deve decidere come restarci io direi che la diciamo la comparazione può essere sotto altri profili la nostra può essere più simile la nostra crisi può essere più simile a quella della seconda metà dell'ottocento cioè quella della seconda rivoluzione industriale la seconda rivoluzione industriale che è quella della diciamo della generalizzazione del fenomeno industriale in Europa eh fa sì che il triangolo industriale Milano-Torino-Genova parta eh qualche industria tessile soprattutto nel Veneto per esempio un po' di industria pesante sidriurgico cantieristica intorno a Napoli Piombino Livorno e Genova naturalmente e poi il resto niente no questo cosa significa che c'è un pezzo di paese che sta nella seconda rivoluzione industriale cioè che è già dentro e poi c'è un pezzo di paese che ne è escluso a tal punto che poi la caduta dei prezzi agricoli mezzi di trasporto che costano meno fanno sì che gli agricoltori non riescono più a vivere debbono emigrare per poter sopravvivere quindi diciamo che è come se il paese l'Italia si trovasse divisa in due pezzi un pezzo che sta dentro la modernità e un pezzo che sta dentro l'elemento marginale mi sembra che oggi siamo in una situazione analoga cioè i processi di globalizzazione industriale fanno sì che anche oggi ci sia un pezzo del paese che è dentro questi processi internazionali non è più per aree ma è puntiforme cioè per singole imprese quindi non tutte le imprese di una città stanno non è che una volta c'era l'intero distretto che stava dentro la modernità penso a quello di Milano di Torino e così via oggi è molto più difficile individuare le imprese che stanno dentro i processi globali anche se ci sono piccole medie grandi e dall'altra parte un pezzo di paese che invece si sente ai margini di questo processo e non sa come parteciparne ed è questa la grande sfida dei governi è quello di fare entrare più parti del paese possibile dentro questa diciamo perimetro del nuovo sviluppo che non si riesce diciamo però a delimitare chiaramente e e questa è diciamo l'elemento più complicato anche di lettura perché una volta le imprese erano radicate sui territori oggi sono ancorate nel senso che salpano le ancore possono benissimo trasferirsi e questo le rende naturalmente degli oggetti molto più diciamo flessibili transitabili e di conseguenza anche meno difficili più difficili da leggere per chi vuole leggere i processi globali e non la storia del singolo settore produttivo però credo che ci troviamo in una situazione analoga a quella diciamo non analoga ma diciamo dove il problema è più simile a quello un paese a metà che si trova un pezzo dentro un pezzo fuori la crisi degli anni settanta è di un paese che è tutto dentro ancora la rivoluzione industriale di vecchio modello bene il nostro tempo anche se ci sono ancora molte domande a cui rispondere è finito però abbiamo fatto secondo me veramente una bella chiacchierata insieme ringrazio tutti i presenti in presenza finalmente e anche quelli online e ringrazio poi il professor Balzani che ha parlato di tantissimi argomenti con entusiasmo direi come sempre e anche il museo M9 per averci permesso questo bellissimo incontro un caro saluto a tutti buona serata grazie a tutti 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 grazie a tutti